Nessuno ha pensato ad un requisito post-agevolazione, cioè dire io ti do l'agevolazione ma devi rimanere a meno di dieci anni. Nasce dagli studi di TV12 un'idea per la nuova norma che la maggioranza ha promesso di presentare entro l'anno sulle politiche abitative. Potrebbe essere una buona idea, una proposta, un qualche cosa su cui discutere e non posso fare altro che ringraziarla. Il dibattito in Consiglio regionale su questo tema è stato aperto da un emendamento dell'opposizione che ha proposto di abolire il requisito dei 5 anni di residenza pregressa per accedere alle agevolazioni. Potrebbe avere un senso anche questo, di dire ti agevole se tu rimani, come si fa per l'azienda, ti do un contributo per creare un'azienda, però devi tenere la tua azienda, il tuo stabilimento in regione per i sani. Ha un senso. Analoghi regolamenti in altre regioni sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale che prima o poi potrebbe pronunciarsi anche sul fiu di Venezia Giulia. Corte Costituzionale che si è già espressa su un altro tema, sempre legato all'accesso alle agevolazioni sulla casa. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato, perché parla di disparità, l'italiano fa un'autocertificazione e a lui gli crediamo. Lo straniero che viene qua fa un'autocertificazione e a lui non crediamo. Non è possibile che tutto sia giustificato per la gente del luogo e per quelli che vengono da fuori ci siano mille e una giustificazioni. E no, non possiamo andare avanti così.